Prima di ieri sera era stato un susseguirsi di polemiche, incontri infruttuosi, contestazioni, rivendicazioni, interpretazioni. La vicenda è nota come l'avvertenza alla panoramica. Capitolo centrale, tra tanti, la mancata erogazione delle risorse stanziate appositamente dalla regione Abruzzo per ristorare i lavoratori colpiti sia dal carovita che dal taglio del salario. Sulla base dell'emendamento presentato da Mauro Febbo, la regione aveva versato la somma alla tesoreria della comune di Chieti, ma la concessionaria ha messo in mezzo difficoltà di natura interpretativa della norma regionale e è servito un ulteriore chiarimento. Oggi sembra arrivato finalmente il momento di voltare pagina, visto che nella riunione di ieri sera in Confindustria la consegna dei soldi ai lavoratori è stata messa in agenda. Ieri sera finalmente si è trovato l'accordo per questa somma che è la regione come trasferimento per il TPL. Abbiamo trovato un accordo, soprattutto l'azienda e i sindacati hanno trovato un accordo per queste 400 mila euro. Finalmente noi oggi approveremo una delibera di giunta dove in base alla normativa regionale prendiamo atto della normativa regionale e soprattutto mettiamo delle clausole affinché l'azienda può erogare tranquillamente queste somme che andranno destinate tutta quanta ai dipendenti. Finalmente prevalsa la coscienza e la responsabilità di trovare una soluzione a questo importantissimo problema che ha riguardato i dipendenti e la panoramica e di fatto tutte le parti sono state soddisfatte dell'incontro e del risultato soprattutto. Un plauso va soprattutto all'azienda e soprattutto anche ai sindacati che hanno fatto un passo indietro rispetto a una posizione che prima era abbastanza difficile. Per quanto riguarda il futuro adesso aspettiamo comunque la regione che è in scadenza della prova del TPL del 2023 per quanto riguarda la concessione del servizio cerchiamo di trovare un modo soprattutto per migliorare il servizio soprattutto per garantire a tutti quanti i dipendenti una migliore stabilità. Soddisfazione dunque anche da parte dei sindacati. Nel comunicato della Filt CGL, Filt CISL e Faisa Cisal si legge firmati gli accordi che chiudono una vertenza durata due anni. Passa la linea del sindacato, i 400.000 euro stanziati dalla regione vanno interamente ai lavoratori quale ristoro della contrattazione disdettata, ottenute dall'azienda risorse aggiuntive per la chiusura della vertenza ferie.